Buongiorno Deido, un paio di giorni di attesa per questo podcast, per ricaricarmi, ma l'ho fatto per voi anche per consentirvi di recuperare le puntate che avevate perso, per rimettervi in pari, l'ho fatto per voi, è una cosa così, ogni tanto lo faccio, ma normalmente cerchiamo di andare in onda con queste puntate giornaliere per raccontare un po' le notizie del mercato IT, del mondo tech open source, del nostro mondo, quello che ci piace. Vabbè, e oggi vorrevo darvi qualche aggiornamento sul lato legislativo, cioè vediamo un po' gli aggiornamenti sul Cyber Resilience Act e sull'AI Act, che sono due leggi super importanti dell'Unione Europea che entrano nel vivo a breve, quindi faccio un po' un recap prendendo qualche articolo per farvi un po' vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti, in che direzione stiamo andando. Prima di iniziare, voglio ricordare, visto che non ho potuto farlo in questi ultimi due giorni, che domenica è stata la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, questo è il nome, il titolo scelto dall'UNESCO per questa giornata, che sapete un po' come tutte le giornate internazionali, non è che abbia proprio un significato specifico di celebrazioni, di feste, di cose ufficiali, ma serve più che altro a sensibilizzare, a spubblicare delle ricerche, dei dati e a far sapere insomma come sta andando un certo scenario, un certo topic, e questo topic appunto è il gender gap, cioè è il problema della percentuale di persone di genere femminile all'interno delle materie scientifiche e in particolare a noi interessano l'informatica, perché la situazione negli ultimi anni è migliorata, sta migliorando, però insomma siamo ancora un po' indietro, dagli ultimi dati che vedo, il 33,3% dei ricercatori in ambito STEM totali nel mondo, ecco solo il 33% sono di genere femminile e tra gli studenti di materie STEM soltanto il 35% sono appunto persone di genere femminile, e questo insomma vi fa capire come non abbiamo ancora assolutamente raggiunto la parità, ci stiamo muovendo in quella direzione. Il problema come sapete è culturale, è sistemico, però anche noi secondo me con piccoli gesti possiamo cercare di rendere le nostre community, i nostri gruppi sempre più accoglienti, sempre più inclusivi e insomma a piccoli passi secondo me ci possiamo muovere nella giusta direzione, cercare di facilitare insomma questo processo che poi alla fine è a beneficio di tutti. Basta, volevo solo introdurre con questa roba qua e adesso andiamo a vedere un po' di leggi. È mercoledì 14 febbraio, quindi buon San Valentino, è il momento di parlare di a che punto siamo con il Cyber Resilience Act, il CRA, se non vi ricordate che cos'è il CRA, faccio uno shameless plug, andate sul mio canale YouTube, nel boxettino di ricerca, cercate CRA o Cyber Resilience Act e troverete gli episodi dove l'anno scorso ne ho parlato in maniera più approfondita e estensiva, così insomma vi rinfrescate un po' la memoria. Vi faccio un rapidissimo assunto, il CRA è una legge europea che cerca di andare a indirizzare il problema della cyber security, cercando di rendere tutto l'ecosistema di prodotti, software e hardware più sicuro e più conforme insomma a una serie di regolamenti, di responsabilità anche per chi lo crea, lo deploya, lo distribuisce. Ecco, e questo insieme di regolamenti insomma da parte di tutta la comunità open source è stato visto un po' come una minaccia, perché poneva degli obblighi abbastanza gravosi anche sulle spalle di piccoli maintainer o piccole aziende che creano dei software open source e distribuiscono e poi devono mantenerli pacciati, sicuri e addirittura in alcuni casi ritirarli dal mercato nel caso della scoperta di vulnerabilità. Insomma, questo è un po' per dirvi il riassuntino, ma siamo arrivati dopo un anno di dialogo tra varie foundation e vari soggetti all'interno del mondo open source con le istituzioni europee, siamo arrivati a un testo finale revisionato che apparentemente ha accolto molte delle istanze che il nostro mondo aveva presentato alle istituzioni e infatti leggo da questo articolo di The Stack che la Linux Foundation Europe dice che la riscrittura del Cyber Resilience Act ha portato a pensare che questa legislazione non sia più così minacciosa, anche se ha ancora qualche implicazione. E mentre l'organizzazione dice che adesso c'è una definizione ragionevole di open source, però c'è ancora del lavoro da fare sulla definizione degli standard. Sulla definizione di open source era uno dei punti più critici, perché nel testo iniziale, nelle prime bozze di questa legge, sembrava non esserci una chiara comprensione da parte delle istituzioni di che cosa volesse dire, di che cosa fosse open source. E quindi questo era uno dei temi che si è più dibattuto, anche sulla differenza tra attività commerciale e attività non commerciale. Sapete che nel mondo open source è abbastanza complicato definire che cosa trae profitto da un software rilasciato in open source. E cosa no, quindi si è lavorato proprio sulle definizioni di questi particolari, che in realtà però sono molto importanti. E poi c'è una piccola intervista, qualche appunto dichiarazione di Mirko Bohem, che è Senior Director e Community Development proprio in Linux Foundation Europe, che ha parlato con The Stack e ha detto appunto che ora il testo, che non è più, ripeto, così problematico, ecco, dice che separa lo sviluppo dalla distribuzione del software e quindi traccia una riga molto più definita tra quello che è considerato attività commerciale e ciò che invece non lo è. E tutte le attività non profit sono per la maggior parte escluse dagli obblighi del CRA. Inoltre il CRA ha creato, ha incluso questo nuovo ruolo del open source software steward. E questo è che è la prima volta che viene in questo modo definito legalmente un qualcuno che non è uno sviluppatore, non è anche qualcuno che vende il software, ma è una non profit che si occupa della distribuzione, della release, ecco, di un software open source. Immagino per esempio le piattaforme che le fondazioni non profit hanno e da cui mettono a disposizione software magari creato e distribuito da altri. Quindi questi steward sono soggetti a un regime regolatorio molto più leggero che, secondo ancora Mirko Bohem, non è chiaramente definito, ma suona rassicurante. E a questo punto, dice, bisogna spostare il focus sulla definizione dello standard che è un'attività che è preso in carico dall'ISDO, che sono Standardization Development Organization, che sono soggetti riconosciuti dall'Unione Europea, che, dice lo stesso Bohem, non hanno un track record di ottime interazioni con le fondazioni open source, ma, insomma, Linux Foundation Europe cercherà di portare avanti questo dialogo e di influenzare questo procedimento. Vado a prendere anche un blog post su OSI, Open Source Initiative, sul blog di Open Source Initiative, che è Voices of Open Source. C'è un post che si intitola The European Regulators Listen to the Open Source Communities, che quindi pone l'enfasi proprio sulla capacità dimostrata dall'istituzione europea e di ascoltare e di collaborare con gli organi, appunto, delle comunità open source, le fondazioni e le organizzazioni, e di, appunto, modificare un qualcosa che è una legge che poi diventerà operativa. Quindi, qui, lo dico anche, metto anch'io enfasi su questo aspetto, cioè sulla capacità nostra, anche nel nostro piccolo, di farci sentire, di influenzare delle decisioni importanti. Vi ricorderete la campagna Fix the Cra di Linux Foundation Europe, tante voci sui social network si sono alzate, anche noi, nel nostro piccolo, per cercare di far capire che il problema era sentito un po' da tutti, ebbene, poi le istituzioni, in questo caso almeno, hanno ascoltato e hanno modificato una legge. Detto questo, ci sono in questo blog post di OSI un po' di reazioni a questo testo da parte di varie foundation. Si ricorda sempre, come ho detto, che durante tutto il 2023 anche Open Source Initiative ha mandato dei suoi delegati a lavorare insieme alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio europei, ecco, e quindi il testo finale è stato modificato ed è stato accolto in questo modo dalle fondazioni. Per esempio, la Python Software Foundation dice che il testo finale dimostra una comprensione molto più chiara di come funziona il software Open Source. La Eclipse Foundation dice che la legislazione revisionata ha migliorato notevolmente l'esclusione di progetti Open Source, community e fondazioni, oltre alle platform di sviluppo e distribuzione dei pacchetti. La Apache Software Foundation, infine, ha detto che queste sono delle ottime notizie per tutta la comunità. concludo dicendo che, come anche ha detto Mirko Bohem, ci sono ancora delle sfide davanti a noi, soprattutto nella definizione degli standard. E per completare questo giro di reazioni al testo finale, vi riporto anche lo statement della FreeBSD Foundation. La FreeBSD Foundation riconosce gli effort, gli sforzi fatti durante il processo legislativo per andare ad indirizzare le nostre preoccupazioni e accoglie con favore le revisioni che ci sono state nel testo finale del CRA. Poi più avanti dice, insomma, ci complimentiamo con l'Unione Europea per questo processo di engagement, per aver lavorato insieme agli stakeholder dell'open source e per aver fatto una serie di step che assicurano che il CRA è sia un bilanciamento appropriato tra l'avanzamento della cyber security e il supporto all'innovazione nell'open source. In fondo a questo statement ci sono un paio di link interessanti. Uno è uno statement di Open Forum Europe e l'altro è un post di Bert Hubert che è uno di quelli che avevamo citato anche l'anno scorso per andare ad analizzare la proposta nel dettaglio. Ha fatto una revisione, Hubert, nel dettaglio anche del testo revisionato e quindi questo post, insomma, questo link, ve lo lascio anche questo nella descrizione dell'episodio perché se volete andare a vedere proprio pezzo per pezzo come è stata cambiata la legge e i commenti di Bert Hubert che questo è il suo indirizzo web, bertubert.eu ecco, anche questo è un, per approfondire, ecco, è un testo che vi consiglio. E ora invece mi sposto su un'altra legge importante che è l'AI Act. Anche questa è arrivata al suo testo finale e quindi è opportuno andare a vedere che cosa contiene anche se in realtà questa non è cambiata molto dall'ultima volta che l'avevamo vista. Questo è un articolo che trovo su Politico ed è scritto da Gian Volpicelli. Questo testo finale, ripeto, anche questo è stato oggetto di un po' di discussioni e anche qui è stato leggermente modificato, anzi, i gruppi di influenza hanno evitato che ci fosse, ecco, un cambiamento abbastanza grave che poi vediamo però il testo finale, ecco, non si distanzia troppo da quello che avevamo già visto quindi vado un po' a riassumere. Anche qui ho fatto un altro podcast nello scorso anno dove l'avevo spiegato un pochino più nel dettaglio però qua vediamo un po' qual è il testo finale. Allora, quello che interessa di più è ciò che è proibito cioè gli usi proibiti dell'AI in Europa. Ecco, l'articolo 5 infatti dice quali sono gli usi proibiti. Questi usi bandati sono tutti quelli che influenzano il comportamento ad esempio con attività subliminali o manipulative ecco queste tecniche che cercano di sfruttare le vulnerabilità di una persona o di un gruppo di persone e poi anche usare informazioni biometriche per andare a capire la razza di una persona l'orientamento sessuale oppure il credo religioso ecco, anche questo uso non è permesso poi inoltre il riconoscimento facciale in real time nei posti pubblici questo è conosciuto come Remote Biometric Identification quindi RBI ecco, questo è un uso che non è permesso ma ci sono delle eccezioni infatti le forze dell'ordine potranno sempre usare questa tecnologia quindi riconoscimento facciale in posti pubblici nel caso di investigazioni su crimini particolarmente gravi o nella ricerca di persone scomparse ma devono avere l'autorizzazione del giudice questo è uno dei punti che avevo visto più a rischio cioè a un certo punto si era arrivati a una versione del testo in cui gli usi del riconoscimento facciale nei posti pubblici erano permessi anche senza il mandato di un giudice ma fortunatamente insomma questo è stato poi rimodificato e nel testo finale c'è bisogno del permesso di un giudice che mi rendo conto che suona sempre un pochino distopico riconoscimento facciale in posti pubblici anche nel caso di investigazioni però è comunque meglio che non avere legiferato su questo punto poi come ultima cosa sempre basata sulle investigazioni è proibito usare l'intelligenza artificiale per fare delle stime sulla possibilità di una persona di commettere in futuro un crimine basato sul suo track record sulle sue caratteristiche questo è il cosiddetto predictive policing e sì stiamo parlando esattamente di quello che fa Minority Report cioè stiamo legiferando su uno scenario che fino a qualche anno fa era considerato fantascientifico invece non è così tanto se qualcuno ha pensato di farci delle leggi sopra vuol dire che l'idea era balenata nella testa di qualcuno per fortuna almeno l'Unione Europea almeno a livello di leggi ecco dovremmo essere protetti inoltre con l'intelligenza artificiale non è possibile non sarà possibile creare dei database di facce di immagini di facce di persone prese da internet insomma o dai video delle telecamere a circuito chiuso ultima cosa non si può usare l'AI per cercare di capire le emozioni di una persona sul posto di lavoro o a scuola insomma ecco anche questo uso non è permesso o se vi ricordate l'AI Act classifica i tool di AI in base al rischio e i creatori dei sistemi di AI classificati come ad alto rischio devono seguire delle pratiche molto precise per esempio i dataset usati per il training devono essere etici e quindi devono rappresentare senza bias la popolazione umana inoltre devono fornire documentazione tecnica alle istituzioni e devono permettere alle istituzioni stesse di condurre un assessment queste aree considerate ad alto rischio includono appunto il riconoscimento facciale e biometrico quello che non è esplicitamente proibito dall'articolo 5 poi componenti infrastrutturali critici le scuole, l'educazione e i luoghi di lavoro l'accesso a servizi pubblici a benefit o servizi privati essenziali come le banche e le assicurazioni e inoltre gli usi relativi a forza dell'ordine attività migratorie, giustizie e elezioni sono anche queste tutte classificate come ad alto rischio e infine per quanto riguarda le AI general purpose quindi i modelli per esempio dei large language models su GPT, BARD, che non è più BARD quindi Gemini, ecco quel tipo di modelli quelli sono classificati come general purpose e alcuni sono classificati a rischio sistemico perché sono molto avanzati altri invece no ma comunque tutti questi sviluppatori dovranno consegnare documentazione tecnica alle istituzioni dovranno inoltre aiutare sia le compagnie che le persone che deployano i loro modelli a capire funzionalità e limiti di questi tool e dare anche un elenco del materiale coperto da copyright sia testo che immagini che è stato usato per allenare questo modello e inoltre poi collaborare con l'Unione Europea per insomma assicurare la compliance di questi modelli alle nuove regole insomma questo è quanto viene definito e infine vi do due notizie al volo che riguardano sempre le leggi la prima è nell'Unione Europea la seconda sarà invece in Canada e sulla prima parliamo di bonifici bonifici istantanei quindi questi sono stati approvati dall'Unione Europea vado su D-Day, c'è un articolo che ne parla mercoledì della settimana scorsa è stata ratificata questa serie di disposizioni che mirano a garantire un flusso rapido e sicuro di pagamenti tra cittadini e imprese dell'Unione Europea c'è questo concetto di bonifico istantaneo che richiede che il denaro venga trasferito sul conto del beneficiario entro 10 secondi dall'inizio della transazione quindi le banche e i PSP che sono prestatori di servizi di pagamento ad esempio in Italia c'è poste italiane ecco saranno tenuti ad assicurare che i bonifici vengano processati immediatamente e anche gli stati membri al di fuori della zona euro saranno coinvolti anche se ecco ci sarà un periodo di transizione più lungo ma i nuovi standard dovranno essere applicati anche da loro per avere omogeneità di pagamento in tutta l'Unione Europea e nonostante queste innovazioni insomma sui bonifici istantanei i costi rimarranno gli stessi di quelli non istantanei quindi praticamente se non state pagando con la vostra banca i bonifici ecco quello stesso costo sarà per i bonifici istantanei che diventeranno di fatto il default andando verso il futuro adesso gli stati membri dispongono di un periodo di 12 mesi per andare ad attuare questo regolamento quindi un piccolo colpetto anche ai signori Crypto Bros che hanno questa cosa delle transazioni super veloci, immediati, in tempo reale che invece noi con la nostra banca tradizionale non possiamo avere invece la possiamo avere e in ultimo vi ricordate di Justin Trudeau il primo ministro canadese super progressista, super avanti, super cool ecco non è più così tanto cool dal momento che ha deciso di bannare un device open source peraltro che è il Flipper Zero ora qua non abbiamo mai parlato di Flipper Zero quindi magari non sapete che cos'è in tanto se mi state guardando vedete anche l'immagine di questo device è un piccolo device molto piccolino vedete quanto è piccola la SD card in confronto ecco ed è un appunto un pezzo di hardware e di software open source che consentono di analizzare delle reti wireless su vari standard e su vari spettri quindi per esempio potete analizzare una rete bluetooth una trasmissione NFC ma insomma vari tipi di reti ecco con questo device li potete andare ad analizzare e anche intervenire mandando, copiando la frequenza mandando messaggi su quella frequenza eccetera è stato oggetto nell'ultimo anno insomma di un po' di discussioni e sono arrivate delle fake news anche molto importanti sulla possibilità con questo device che tra l'altro costa molto poco di sbloccare le auto di aprire le macchine che hanno appunto l'apertura keyless cioè basterebbe essere vicino a chi ha le chiavi della macchina copiarne la frequenza e poi riuscire a aprire e partire con il veicolo senza più avere la chiave in realtà questa roba è stata più volte smentita anche dagli stessi creatori di Flipper Zero che hanno detto che in certe condizioni in certi scenari è possibile con questo device andare a copiare la frequenza di chiavi di automobili di modelli specifici anche piuttosto vecchiotti quello effettivamente sarebbe possibile ma bisogna essere in condizioni molto particolari bisogna anche che il possesso delle chiavi si trovi molto vicino insomma non è che fai il giro di un parcheggio con Flipper Zero e provi tutte le macchine prima o poi una ti si apre non funziona così inoltre oggi per aprire le auto serve una potenza del segnale che questo device Flipper Zero non è in grado di fornire quindi non riuscirebbe così com'è a aprire le macchine insomma ma fatto sta che questa serie di fake news ha portato preoccupazioni nel governo canadese tali da decidere di bannare completamente questo dispositivo cioè non sarà più possibile in Canada comprare e importare questo device che ripeto è un device open source sia nell'hardware che nel software adesso ci sono naturalmente le proteste dell'azienda che lo produce e di un po' di associazioni anche perché insomma è un device che primariamente è usato per studiare le reti wireless o per costruire dei piccoli device casalinghi per magari non lo so aprire la porta del garage o muovere le tende insomma creare anche delle piccole sperimentazioni hobbistiche ecco e invece ora sarà impossibile comprarlo in Canada e molti hanno anche fatto notare che tanti di questi componenti possono essere acquistati comunque separatamente e poi riassemblati da chi vuole davvero andare a fare il ladro di auto non ha bisogno di comprare un Flipper Zero per farlo lo può fare in altri modi ma insomma apparentemente il governo non sente ragioni Flipper Zero bannato questo volevo darvi questa news se volete però leggerlo un pochino più in dettaglio vi consiglio un articolo su Ars Tecnica che ne parla si intitola Canada dichiara Flipper Zero il nemico pubblico numero uno nei ladri d'auto ecco insomma traducetelo in inglese e andate a cercarvi questo articolo se volete approfondire vi lascio velocemente due link interessanti in fondo all'episodio il primo è una proposta che si sta discutendo nel CSS Working Group nel V3C ed è l'introduzione di mixing e funzioni all'interno del nuovo draft insomma la nuova versione di CSS e vi punto a questo paper di fatto il paper su cui si basa la proposta scritto da Miriam Suzanne che è una famosissima frontender è autrice su CSS Tricks Smashing Magazine ed è membro del working group del V3C che sviluppa appunto CSS e ha scritto questa proposta insomma che racchiude i mixing e le funzioni se insomma avete familiarità con SAS per esempio già sapete di cosa si sta parlando quando si parla di mixing e funzioni insomma e in questa proposta vedete come si delinerà dovrebbe delineare insomma la sintassi dell'introduzione di queste funzionalità all'interno di CSS insomma c'è tutto c'è tutto il testo della proposta se vi interessa andare un po' ad approfondire è interessante anche per capire come lavora questo gruppo questo è il primo link che vi volevo dare il secondo invece è un piccolo post che però racconta di un progetto che sta facendo un po' discutere sul fediverso ecco su Mastodon in particolare è un progetto di Ryan Barrett il suo sito web è snarfed.org e qui vedo questo blog post del 12 febbraio dove annuncia che sta costruendo un bridge da Mastodon a Blue Sky sapete che Blue Sky è quel nuovo social network creato dal fondatore di Twitter Jack Dorsey che è un protocollo diverso da Activity Pub è AT Protocol mi pare ed è anche questo un protocollo decentralizzato però non segue la stesso standard di Mastodon e quindi non c'è comunicazione tra i due bene con questo bridge apparentemente sarà possibile seguire server e utenti di Blue Sky da Mastodon questa roba sta facendo un po' discutere perché appunto molti utenti di Mastodon sono abbastanza conservatori diciamo così c'è un po' restia ad aprirsi ad altri network soprattutto a quelli commerciali vi ricorderete la discussione intorno a Threads ecco anche con Blue Sky sta un po' venendo fuori la stessa cosa però se volete approfondire un po' di più c'è questo articolo e inoltre i link naturalmente ai dettagli implementativi di questo bridge tra Mastodon e Blue Sky e vedremo un po' come evolverà intanto vi punto a questo articolo non ha un titolo ma vi lascerò il link nella descrizione di questo episodio io mi fermo qui grazie per aver seguito anche in questo episodio Legal Drama spero che vi sia interessato insomma vedere anche un po' gli aggiornamenti sulle leggi che poi ci toccheranno da vicino quindi fate bravi continuate a mangiare le vostre verdure e vi consiglio di assaggiare le mentine di Postgres ciao